GORGE! WE BRING YOUR GAS! Sono belli i combattimenti fra Goblin ... ... ... ah ah E questi combattimenti sono molto fatti da smalti E quindi veniva un giocatore di venti No 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 Ma finta No 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 C'è un po' di danno C'è un gobbin con la lettera C'è un gobbin con la lettera Oh shit 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 Oh shit